Mentre si lavora sotto traccia al calciomercato per assicurare a Mr. Braglia una rosa ambiziosa dopo essersi ormai assicurati sturno come meta del ritiro estivo, l'Avellino guarda anche oltre ed attende stasera di capire se e come giocherà la Team Cup. Infatti i biancoverdi hanno la possibilità di giocare nella rinomata competizione nazionale se il Bari dovesse battere in finale play-off la Reggiana. Di solito la partecipazione è di diritto alle formazioni che si posizionano dal secondo all'ottavo posto in classifica. Merito anche della Ternana che in virtù del suo quinto posto e della partecipazione alla finale di Coppa Italia di Lega Pro ha permesso di rientrare nella competizione alla nona classificata, ovvero la Virtus Franca Villa. Ecco che poi si arriva all'Avellino, decimo posto per i Lupi, che sarebbe prezioso per la partecipazione alla Team Cup solo se il Bari dovesse battere appunto la Reggiana. L'Avellino approderebbe al secondo turno preliminare, in caso contrario sarà solamente Coppa Italia di Lega Pro. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.